Ciao bella gente, non mi danno un attimo di respiro perché ormai siamo entrati in quel periodo lì, quello di lancio della Season, e ho un bel po' di cose da farvi vedere, ci hanno presentato il nuovo team all'interno della squadra Rainbow. Bentornati sul canale della RainbowSight.com per sapere tutto, morte, vite e miracoli di Rainbow Six Siege, sapete cosa dovete fare. Cliccate su quel pulsante, iscrivetevi e attivate le notifiche, e poi in descrizione ci sono tutti i nostri canali social, quelli della community, quelli nostri personali, e tra l'altro, facendo la sub al nostro canale Twitch, vi beccate anche il ciondolo da poter usare in game, che alza a dismisura le vostre skill in gioco. Ma ora, non perdiamoci in chiacchiere perché abbiamo un bel po' di cose da vedere, perché ci hanno effettivamente annunciato il team capitanato da Caveira, che si chiama Ghostai, e si occupa di spionaggio e infiltrazione, ma quando ci è stato mostrato la prima volta, vediamo se siete preparati. Bravissimi, per quelli che hanno risposto, gli altri pessimi tutti quanti rimandati, perché ci è stato annunciato durante il Six Invitational, cioè quando ci è stata mostrata la lavagna di Harry, sì, vabbè, ve la faccio vedere perché altrimenti che senso c'ha. Avevo fatto una super analisi di tutta la tabella, recuperatela, vi faccio comparire il video in alto a destra, ma qui sulla destra c'erano stati mostrati anche i quattro team in cui veniva splittato Rainbow. Di queste, attualmente, abbiamo scoperto Wolfgard, quella capitanata da Docco, al cui interno troviamo tutti quegli operatori che un po' per tramo, un po' per abilità personali, sono più improntati agli uti umanitari, quindi tutte quelle operazioni di salvataggio e simili. Mentre, di fianco, abbiamo trovato proprio la squadra capitanata da Caveira. Si leggeva poco e nulla di queste note, ma in pratica Harry, perché sono tutti appunti di Harry, esaltava le capacità di Caveira proprio ad infiltrarsi e quindi descrivendola come la migliore al mondo per quanto riguarda infiltrazione, sorveglianza, intelligence ed eliminazione. Qui vediamo l'elenco degli operatori che fanno parte, quindi, di questa squadra. A tutti gli effetti mi sembra scontato dirvi che il prossimo operatore potrebbe far parte di questa squadra, poiché l'abbiamo già visto con Sands, che è entrato proprio nella squadra Wolfgard e per questo c'era stato presentato il team di Doc, poi con Grimm, in quanto c'è stato presentato il team Night Even più nel dettaglio, e ora invece tocca al team di Caveira. Dunque, è stato pubblicato un video da Ubisoft in cui vediamo qualche dettaglio in più, andiamola a guardare. State tranquilli che alla fine ve lo lascio con i sottotitoli, perché per ora è tutto in inglese. Penso sia proprio Caveira a parlare, a descrivere più o meno quella che è la sua squadra in questo momento e quello di cui si occupano. Voglio più che altro concentrarmi sull'analisi dei gadget che si vedono qui a schermo. Il primo è palesemente il visore notturno di Splinter Cell del nostro Sam Fisher, ovvero Zero, che fa parte, fa capo proprio al team di Caveira, mentre è molto più interessante vedere un po' di caschi barra visori, perché se la luce salta quando si tratta di Zero, c'è da dire che magari la telecamera fa qualche interferenza quando invece inquadriamo il casco di Vigil. Non finisce qui perché ovviamente tocca alla nostra Nook, che sarà anche protagonista di altri dettagli che vi voglio dare a breve. Qui vediamo il suo riduttore di presenza Hell. Guarda quanto so bravo, mi ricordo pure i nomi dei gadget. Proprio dietro al velo di Nook troviamo la fiamma Suri utilizzata da Maverick. Suri, non Suria. Semplicemente la fiamma ossidrica dell'attaccante. Di fianco, ecco che le cose diventano un attimo più interessanti. Non solo vediamo le Goodylision così nel dettaglio, che sono fighissime, comunque questo design un po' in CGI mi piace un sacco, ma troviamo questi occhiali che, andando a dare uno sguardo all'immagine dell'operatore che vi faccio comparire ora a schermo, che abbiamo visto nell'analisi della mappa, ve l'ho pubblicata l'altro giorno qui su YouTube, sono gli occhiali indossati proprio da quell'operatore. Quindi procediamo e notiamo sulla destra un piccolo pest di Mozzi, anche lui parte di questo team, e alle spalle di questa Gumain... Say goodnight, desgrasado. Bellissimo soprattutto il fatto che abbiano lasciato sentire il colpo riconoscibilissimo della Luison di Caveira, ovviamente si trattava di Caveira, e poi il fatto che lei abbia detto buonanotte, desgrasado che dovrebbe essere tipo bastardo in portoghese. Ancora una volta abbiamo alcuni pest di Mozzi messi qui e lì che da vicino sembrano veramente dei ragnetti, e poi al centro di questo tavolo abbiamo i droni ratero dei Flores. Bello, 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 bello. Anche il logo, tra l'altro, molto carino. E quello che voglio ricordarvi è che ovviamente ci sarà il reveal il 21 novembre, e che noi lo seguiremo in diretta sul nostro canale Twitch a partire dalle 21, 21 e 30. Il link è sempre quello, twitch.tv slash rainbow6.com. Vi aspettiamo lì per scoprire tutte le novità. Però il video non finisce qui perché ho altri dettagli da aggiungere a quello che abbiamo analizzato ora. Non è in altissima definizione perché si tratta semplicemente della copertina del video che vi ho appena mostrato. Avrete notato che su quel tavolo che abbiamo analizzato mancano i gadget di alcuni operatori che invece dovrebbero far parte del team Ghostai, almeno stando alla lavagna di Harry. Qui ne compare qualcuno in più. Vi faccio già uno spoiler. Manca un operatore all'appello ed è Valkyrie. Io non ho notato gadget di Valkyrie, quindi se voi lo notate scrivetemelo nei commenti. Partiamo proprio dal centro di questo appendi gadget armi perché non saprei come chiamarlo. dove troviamo il logo di Ghostai ma soprattutto sul fianco sinistro tutto ciò che appartiene al nostro Zero, Sam Fisher, con il launcher delle cam Argus che vedete qui e il suo coltello. Al di sotto invece questo è palesemente il cecchino di Glaz, l'OTS. Anche lui membro dei Ghostais. Dall'altro lato invece abbiamo la Luison di Caveira. Quello che penso sia proprio il coltello di Caveira in realtà non penso appartenga a Vigil perché questo invece è lo zaino sulle spalle di Vigil con tanto di telecomando ecco per attivarlo. Mentre in basso abbiamo il Lifeline di Zofia. Nell'angolo in basso a destra anche se pare sopra un armadietto perché proprio in primo piano c'è un pest del nostro Mozzi. Non so ben riconoscere quest'arma. Penso sia un commando. Avrebbe senso perché c'è Mozzi e Mozzi fa parte di questo team qui però non ne sono sicurissimo. Se voi avete idee in merito lo scrivete nei commenti. Ciò che posso dirvi invece è che questo è sicuramente l'SC3000K di Zero. Passando infine al tavolo abbiamo innanzitutto il drone ratero di Flores che è gigantesco con tanto di telecomando. Mentre più in basso al di sotto della scritta ci sono le Gumine di Lision. No, tutte e due aperte. Al centro proprio qui si tratta del Pest Launcher cioè il dispositivo utilizzato da Mozzi per lanciare i suoi robottini ragnetti. In basso invece vediamo quelli che dovrebbero essere i mini droni che permettono a Iana di generare il suo Gemini. Qui sicuramente al 100% c'è l'orologio di Warden mentre ancora una volta vediamo Suri la fiamma ossidrica di Maverick. Attenzione a questo punto qui. Se prima avevamo soltanto gli occhiali di quello che sarà il prossimo operatore ad aggiungersi al Team Rainbow qui abbiamo evidentemente il suo casco che mi sembra molto l'elmo di Mercurio con un tanto di alette sui lati. Prima di concludere vi ho detto che avrei parlato anche di Nook perché da un punto di vista della trama di Rainbow fatemi sapere se vorreste davvero vedere un video con tutta la storia attuale di Rainbow Six che magari facciamo un recap completo. Comunque dicevo da un punto di vista della trama noi ci eravamo lasciati più o meno qui. In pratica il Team Rainbow sta indagando sulle attività di Night Even e Nook era riuscita a infiltrarsi all'interno proprio della base di Night Even. Questa è anche un po' un'immagine della mappa che vedremo con la prossima season. In questo combattimento contro il neo entrato ovvero Grimm vediamo qui Nook allontanarsi con Zero dopo essersi appropriata però di una chiavetta USB. Con l'ultimo fumetto pubblicato sul sito ufficiale di Rainbow vediamo Grimm in una veste molto strana infiltrato in un parco a tema. Ovviamente è lì per un motivo ovvero sta cercando informazioni su Nook autrice di questa fase di spionaggio da parte del Team Rainbow e dopo aver parlato con paricchi contatti dopo averne minacciato qualcuno qui e lì come state notando alla fine addirittura arriva a casa di Nook. Non ci viene mostrato in viso l'operatrice ma si arriva addirittura a uno scontro tra i due con Grimm che alla fine minaccia Nook dicendole che Night Even ha raccolto delle informazioni su di lei ma soprattutto sulla sua famiglia che sta cercando di proteggere nascondendo ecco la sua identità. La cosa interessante è che penso che con quest'atto minatorio Night Even ma soprattutto chi scrive la trama abbia messo le basi proprio per creare una sorta di controspionaggio cioè avere Nook infiltrata all'interno del Team Rainbow o Stredda a farlo. Penso di avervi detto tutto qualora dovessero esserci altre notizie nei prossimi giorni le troverete qui sul canale vi ricordo del reveal completo della season 21 novembre a partire dalle 21 e 30 ormai lo dovreste sapere a memoria Twitch Rainbow 6 da com fatemi sapere se sto video sulla trama lo devo fare sì o no e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti a covert specialist best tools are secrecy and fear we are the boogeymen of the military world when we come for you there's nothing you can do going radio site we're the best suited to deal with the worst our only directive is to achieve our objective no questions no red tape the intel and contacts the intel and contacts we acquire are more reliable than any big dog in a suit they open more doors than any warranty say goodnight disgrasado someone has to get their hands dirty to chase the rats out of the darkness we are ghost eyes we find our enemies in their homes and we make them disappear yeah we're gonna go to theан fire so do we have to deal with the it's not gonna be there